Buonasera a tutti. Io vorrei dedicare la diretta di questa sera a Maria Giovanna Maglie. Maria Giovanna Maglie è stata una giornalista con con un grande temperamento e un grande coraggio perché nei momenti anche più difficili ha avuto il coraggio di andare controcorrente, ha avuto il coraggio di non omologarsi, di non uniformarsi a quello che era un po' il pensiero dominante di quei giorni, di quei tempi, di quei mesi e lo ha fatto su tanti argomenti. Certamente molti ricorderanno il periodo del Covid e soprattutto il periodo che ha riguardato l'obbligatorietà vaccinale, ha riguardato il tempo in cui il governo Conte e poi Draghi parlavano di risarcimenti, di rimborsi, di modalità per fare ripartire l'economia. Maria Giovanna Maglie tante volte si è ritrovata al centro di polemiche e a lei in fine conti le polemiche piacevano anche perché non rifiutava la dialettica forte, non ha mai amato i colori pastelle ma è sempre andata molto dritta. Quindi io penso che quel tipo di giornalismo oggi manca, quel tipo di giornalismo oggi farebbe anche bene ad una RAI rinnovata, visto che si parla tanto di nomine, si parla tanto di con chi sostituiremo Fabio Fazio. Il problema non è come sostituire un programma o un singolo conduttore ma è capire quale tipo di giornalismo, quale tipo di racconto si vorrà fare? Perché il nodo è lì e si può anche fare una trasmissione diversa dalle altre, una trasmissione diciamo non omologata, però poi bisogna avere secondo me il coraggio di ribaltare la narrazione. Vedete al Salone del Libro di Torino sono andate in scena di fatto delle provocazioni che non provocano più, sono delle provocazioni che in fin di conto il sistema appoggia, spinge e quindi è stato un Salone del Libro con delle polemiche artefatte. Per esempio il Salone del Libro doveva essere, perché questo dovrebbe essere il valore della cultura, non ripetere a Pappagallo un qualcosa di prevedibile, ma avere il coraggio di compiere un balzo in avanti, di avere il coraggio di provocare facendo della provocazione quell'esercizio che consente di pensare altrimenti, di pensare un qualcosa che non ti aspetti, quello è il valore della cultura, cioè dare la possibilità di spingere un pensiero diverso. Secondo me Maria Giovanna Maglie era questo, era questo tipo di giornalismo e quindi quando mi sono ritrovato diverse volte a condividere lo spazio televisivo ero in buona compagnia e soprattutto ero affascinato dalla sua capacità di lettura dei fatti, soprattutto i fatti internazionali. In questi mesi dove il dolore, dove la malattia, dove c'era bisogno di lei, ecco in questi mesi i fatti internazionali potevano essere letti in una maniera diversa e quindi saluto e dedico questa diretta a Maria Giovanna, un'opinionista televisiva con delle cose da dire, con questa capacità di sparigliare. Mi sarebbe piaciuto sapere il suo pensiero sui fatti non tanto dell'alluvione ma delle polemiche che accompagnano fatti di questo tipo. Magari avrebbe potuto commentare Franco Prodi che ancora una volta oggi sulla verità, l'altro giorno sul foglio, diceva state attenti con delle predicazioni accelerate sul cambiamento climatico perché il cambiamento climatico non è esattamente come lo stiamo descrivendo e mi sarebbe piaciuto che commentasse quest'ennesimo show di ultima generazione che arriva a fare il bis davanti al Senato con il fango dell'Emilia Romagna. Il fango dell'Emilia Romagna non è il fango che hanno portato loro che forse non hanno neanche mai visto quel fango lì e sono sicuro che gli allevatori, gli agricoltori, le famiglie, gli operatori del settore alberghiero, turistico, le partite IVA, i piccoli imprenditori dell'Emilia e della Romagna guardando quelle immagini l'unica cosa che possono dire, che potrebbero dire, questa è la pala, aiutateci a togliere il fango prima che indurisca. Ecco, Franco Prodi ha detto non è così, non è così che daremo una lettura vera a questi fatti. Questi fatti sono figli di una lettura distorta. Tra l'altro anche di queste cose stasera parleremo su Rete4 alle 20.30. Era interessante la lettura di Maria Giovanna sui fatti che coinvolgono l'Ucraina ma che non si esauriscono nel solo scenario dell'Ucraina perché comunque quei fatti andrebbero letti anche in relazione a dei contesti globali dove si scopre sempre di più che il G7 non ha il potere che aveva un tempo perché stanno emergendo nuovi paesi, i cosiddetti paesi del cartello BRICS che pongono delle questioni molto importanti e non sono più i paesi del sud emergente. Questo sud emergente sta emergendo sempre di più e lo dimostrano anche i dati di crescita. Quindi il mio saluto e questa diretta vanno a lei ma vanno anche a tutti i giornalisti che non hanno più il coraggio di andare oltre quello che ormai è prevedibile. Siamo alla vigilia di grandi trasformazioni. Sentivo e leggevo che Bill Gates sostiene che Google e Microsoft non saranno più i pionieri dell'era della sorveglianza con l'avvento dell'intelligenza artificiale che guarda caso è la casella successiva e che nessuno controlla e che io non so quanto potrà essere controllata ora che sta prendendo la sua velocità e non è un caso che Bill Gates da tempo abbia diversificato dove oggi c'è la possibilità di in qualche modo di condizionare le scelte macroeconomiche finanziarie globali. Penso alla carne sintetica, penso a Big Pharma e penso a queste cose. Così come sarebbe anche interessante riuscire a fare delle riflessioni profonde sulle prossime elezioni americane, su quello che sta succedendo in America. Anche qui Maria Giovanna aveva una conoscenza diretta dei fatti americani. Fu una delle prime a sostenere che Trump avrebbe vinto le elezioni e che Brexit non sarebbe andata a finire come gli opinionisti principali stavano dicendo e infatti poi i dati e i risultati le avevano dato ragione. Ora vediamo che cosa accadrà ma soprattutto vedremo se il giornalismo sarà in grado di compiere uno scatto di reni con letture sorprendenti. Quindi un pensiero a Maria Giovanna Maglie, un pensiero profondo anche di ricordo di amicizia e la ricorderemo per quello che ha fatto. Lo dico, lo lascio soltanto alla fine, anche rispetto a a queste nuove notizie che arrivano dalla Cina dove si parla di una nuova pandemia in arrivo, di nuove varianti e si torna a rimasticare le stesse parole. Ecco, abbiamo già vissuto, abbiamo già visto, ora non venitemi a raccontare per piacere che questa è un'altra emergenza non più prevedibile. Gli errori servono per capire le lezioni e mi auguro che stavolta questa lezione sia abbondantemente capita. Un saluto a tutti per chi volesse e poi ci vediamo tra poco, 20 e 30, su Rete4.